Salve a tutti ragazzi, qui TTT e ben ritrovati sul mio canale Siamo qua su Dragon Ball Legends Non sono da solo Sono qua con Riccigeco per fare un po' di summon assieme Sperando di trovare qualcosa Che non sia pan Che non sia pan, ciao comunque Speriamo di no ragazzi, speriamo di non trovare pan Comunque alò a tutti ragazzi Oggi andremo a spendere 4000 crono crystal Sperando di trovare un broly, che dici? Ah beh, broly, gohan C'è molta roba da trovare in sta bacio Quindi alla fine dei conti Va bene tutto, basta che non sia pan Quella è la cosa Speriamo di non trovare pan Perché veramente per me è un personaggio Abbastanza inutile Almeno nel competitivo Poi se qualcuno lo utilizza È a posto È pan Comunque ragazzi andiamo a spendere 4000 crono a testa Una summon ognuno Comunque ragazzi vi ricordo che in descrizione Del video trovate ovviamente il link al canale di Riccigeco Andate ad iscrivervi In più trovate anche in descrizione il link al sito di DBL Guru Che è una wiki di Dragon Ball Legends In più si sta anche espandendo a Dragon Ball Z da Khan Battle Quindi ragazzi andate a controllare Sia il link al sito che il link al Discord di DBL Guru Detto questo ragazzi direi che è l'ora di partire a fare qualche summon Inizio io Inizio io con la prima summon Legends Rising speriamo in Gohan Vediamo un pochino In più mi avete detto tipo nei commenti che devo Non dovrei fare questo downloading No no io lo voglio perché così almeno so che c'ho un PG nuovo nella multi Sono più felice di quello Ecco qua I downloading Spoilerano Ma è meglio spoilerare Dai speriamo bene dai incrociamo le dita Ecco qua Zero pod Yeah Ah Inizio bene proprio Puzza di extreme pan Te lo dico Puzza di extreme pan Vediamo un pochino Pull normale Release normale Vediamo intanto Comunque si si puzza Puzza di extreme pan questa Proprio la sento dentro La sento dentro Niente di niente L'animazione Oh Attenzione Gohan Gohan Che culo Gohan è la prima What Ma che culo Come hai fatto Come hai fatto Non lo so Non lo so Si è trasformato tutto Così Sparking Gohan Super Saiyan 2 Ma che Vai Vabbè Alla grande Iniziamo alla grande Dai Questo è come si inizia bene un video No Trovare subito il PG banner Alla prima multi Al primo PG Extreme Radish Non venire fuori extreme Oh extreme master rocci Almeno master rocci Vabbè dai Finché non trovo pan Io sono veramente felice Te lo devo dire Proprio Ah Sono Calmo Tranquillo Sereno Quando troverò extreme pan Mi incavolerò però Ah che bello Excel junior Finita qua Wow Subito la prima Vabbè dai Gohan Gohan Cioè Subito È Una cosa pazzesca Sono le cose belle Sono le cose belle Di questi giochi No Quando ti vogliono Dar qualcosa Alla prima multi Oh Speriamo Che mi dice fortuna Pure a me Perché insomma Si spera Dobbiamo spendere 4000 cronocrystal Allora Vado io A Tentare la fortuna Speriamo di trovare O Broly o Gohan Non chiedo tanto È solo I due PG Insomma Vado Vado Tre pods Oddio Goku non si trasforma In super saiyan Speriamo Schipperei quasi St'animazione Però Vabbè dai Pool normale Release Normale Ma si trasforma Instant La prima Speriamo Speriamo Allora Hero Yamcha Doppio Hero Yamcha Tensione Si è trasformata No Trunks Teen Extreme Vabbè dai Peccato Gohan Kid Hero Un altro Extreme Oddio Androide numero 19 Vabbè Devi essere tranquillo Perché tanto Non hai ancora trovato Pan Quindi Alla fine dei conti No Ci sta Quella è la cosa Ho trovato Master Roshi Hero però Dai Ci sta E Hero Non l'Extreme Sì No Ho trovato Hero E poi ho trovato Androide 18 Extreme Poi attenzione Vigeta Extreme Tutti Extreme Ho trovato E Yamcha Ci ho trovato Tre Yamcha Due Hero E un Extreme Dimmi tu Se è normale Sta cosa È una bellissima Multi Devo dire Bellissima I tre Yamcha Battono il mio Gohan Quello è poco Ma sicuro Anzi Scrivete sotto Nei commenti Secondo voi Chi Chi ha pullato Qualcola di migliore Secondo voi Non perché Io ho pullato Gohan Vuol dire Che devo vincere Secondo voi Chi dei due Vincerà Alla fine del video Scrivetelo Niente di niente Ancora C'è il Super Saiyan Ok Va bene Niente di niente Ma c'è il Super Saiyan È alla pari Però Peccato Pur rosso Qualcosa di bello Andiamo Goku Battilo Non l'ha battuto Si può sperare Si può sperare Però in qualcosa Ci spero veramente Hero Tien Extreme Cell Hero Barter Finché non mi dai pan Sono a posto Tranquillo Extreme C18 Extreme C18 Va bene Ok Eccolo Hero Master Roshi Hero Master Roshi Si sta Frost Cyberman O No Non si è trasformato C18 Tranquistin Extreme Cioè 3 C18 Hai trovato 2 2 C18 Ah 2 C18 A random Perché Più che altro Mi chiedo Vabbè Limit Break Amen Grazie C16 Più che altro Mi chiedo Perché il Super Saiyan Per solo delle extreme E degli euro Guarda È successo anche a me E Non me lo spiego Sinceramente Cioè Almeno una Sparking Ha zero senso Il Super Saiyan E poi non ti dà Neanche una Sparking Ma Quindi niente Zero Zero Vabbè Allora Vado io Però faccio il mio Piccolo rito Buona fortuna Vado in feature characters Allora Vedo questo bel Gohan Questo bel Goku Mi fermo a Broly Perché voglio lui Non voglio andare avanti Perché sennò Succede qualcosa di strano C'è Parly Se vai avanti Quindi è meglio Non farlo Ok Torno indietro Vado a fare questa seconda Consecutive Summon Mamma mia Speriamo bene Non c'è Il downloading Non c'è il downloading Può essere sempre Una Sparking che hai Attenzione 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 Sta su Namek E si trasforma in Super Saiyan Con tutti i bots Buono Attenzione Attenzione E Freezer E Freezer Se prende anche le pizze C'è una Sparking Peccato che ne è Una che hai già Però il pool Non è Rosso Quindi No dai dai La Sparking c'è Goku se sta prendendo le pizze Oddio Santo No ti prego Pan No ti prego Pan No Allora Hero Recum Hero Radish Extreme Yamcha Stiamo a 4 Yamcha Attenzione Qua chi è C'è Vabbè Extreme Chaotsu Frieza Chaotsu Frieza Hero Krilly Hero Ma dove stanno le Sparking Hero Butter Non ci sono Doppio Hero Butter Bello Frieza Non c'è stanno la Sparking Non c'è la Sparking Cioè con tutta l'animazione Che ti ha dato Non ti ha dato la Sparking Non c'è la Sparking Che gioco Pregato È brutta come molti Cioè con tutta l'animazione Tutti i pod Niente Poi la vedrai La vedrai in registrazione Mi ha fatto vedere Quello è vero Se c'era tutta l'animazione Vado eh Speriamo in bene Vai vai Ok Potere Uh potere dal downloading Eh quello È buono Grazie Fatti sentire Ok Attenzione Niente di niente ancora Base form Animazione E alla pari Ok Però potrebbe trasformarsi Ah Che cosa Vediamo eh Vediamo Non essere vuota Grazie Base Tutto base Tutto niente Ok Non è successo niente Ok Va bene Che Perché No Che trovato Che trovato È solo hero No Tutti hero No No È solo hero No Ma dai Almeno un extreme Niente Ma cos'è Solo hero Che schifo Mamma mia A me prima Avevamo fatto credit Dicevo almeno una sparking La trovo Invece no Niente Manco quello Ma Allora Siamo partiti Da Trovare Gohan Andare un po' schifo Andare sempre più schifo Ad arrivare alla solo hero pool Almeno Un Yamcha extreme Me l'ha fatto troppo Un Yamcha Pensa un po' Come stavamo Almeno un extreme No Veramente Mamma mia Qualche pots Oddio Manco si trasforma in Super Saiyan Però ci credo Ci credo Perché Con 3000 cronocrystal Non è possibile Che nemmeno una sparking Oddio Cosa è successo Oddio La Genki Dama Sentite Che fortuna Però Potrebbe essere Un poco di paglia Non lo so Vediamo Non lo so Dai dai Deve uscire Obrolio Gohan Dai Deve uscire Almeno uno Te prego Extreme Un'altra volta Extreme Già on su Hero Vegeta Basta Goku Hero Crean in Hero Magari me so Entusiasmato Per niente Però No beh dai Deve essere una sparking Ancora Eccola Chi è Ma che schifo Terless sparking Già ce l'ho Perché è sempre questo Vediamo uscire Il troll Il troll deve esserci E' sempre lì la cosa Vabbè Voglio Bardak io Io me la vado a fare lì Ah deve fare La baccinità Ho già trovato Gohan Non rischio ora Voglio dove non c'ho nessun PG Tranne Goku Rosso Però c'è un downloading Downloading Ok Attenzione Oh 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 Da un poi pai Da un poi pai Che è successo Ah Oddio Vai Goku Vai Goku Per favore Dai Burrosso Battilo Sì Sì L'ha stracciato completamente Sparking Con downloading Almeno due Uh Sparking con downloading Dai 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 Dammi Bardak Dammi Bardak Bardak Pensavo E si è già trovato Bardak No 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 Oh Bardak o Vegeta Mi va bene tutte e due Vai speriamo No è solo Hiro per ora Dai Eccola Io sto in pre No Goku Rosso No Oddio No Sta ovunque quel Goku Sta ovunque Oddio Extreme Yamcha Vabbè Ricorri in questo video Extreme Yamcha Che sfiga Goku Rosso No Non dovevo pullarci Beh è l'unico che hai trovato Sparking Sì 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 È Goku Rosso Goku Rosso Perché ce l'ho già 20.000 copie Hai proprio la trollata finale No Guarda io mi devo fare l'ultimo consecutive Quindi Buona fortuna Cioè Spero che non ti tocchi il mio 2 4 5 stelle Goku Goku Super Saiyan Rosso No però io voglio continuare con La bacia di Gohan Perché non ho trovato nessuno A parte Tarly Ci sta Ci sta Ci sta Vado Continuo Speriamo bene Ti prego Fammi trovare Una Sparking Che non ho Una Sparking Che non è che sto a chiedere tanto Non una Sparking Non è che sto a chiedere tanto Oddio che schifo 0-0 No però attenzione Si è trasformato in Super Saiyan Ok Ho sicuro Extreme Android 17 Un altro Extreme 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 Cabba Altri contenuti Poi se siete interessati Potete fare un salto sul mio canale Andate ad iscrivervi ragazzi E vi ricordo anche un'ultima cosa Di andare a controllare il sito di DBL Guru La wiki italiana di Dokkan Battle E di Legends Quindi andate a darci un'occhiata Insieme al link di Discord DBL Guru Detto questo Noi Ci vediamo al prossimo video Allora ragazzi Allora ragazzi